Siamo contentissimi di essere tornati qui sul campo che ci mancava tantissimo il rapporto diretto e il contatto con le persone facile, veloce, rapido, queste sono le parole che più possono descrivere il metodo di installazione dei nostri supporti in soli due giorni è stato installato il tutto e in altre tanti verrà disinstallato quindi assolutamente una facilità e una velocità di posa mai avuti prima che sia ricoprire le grandi altezze, noi ci siamo che sia da ricoprire una superficie ampia, noi lo possiamo fare anche mantenendo l'altezza del supporto al minimo noi siamo gli unici ad avere le altezze più basse in tutto il mondo siamo un'azienda italiana, i nostri prodotti sono 100% made in Italy ma il nostro export si basa per l'80% sull'estero per cui assolutamente siamo presenti capillarmente in tutto il mondo è una spiaggia un po' ricreata in ambiente futuristico all'interno di un palazzo barocco qui assieme all'architetto Castelli abbiamo scelto questa soluzione con la parte delle mattonelle tarnoivica tenete conto che per questa realizzazione ci abbiamo messo due giorni per fare circa 400 metri in una situazione molto particolare perché al di sotto di questi supporti c'è una situazione con dei ciotoli per cui una situazione con dei dislivelli molto importanti e siamo riusciti in veramente pochissimo tempo a realizzare una piattaforma perfettamente lineare perfettamente piana e in grado di supportare il peso che ci andava messo sopra ad un progettista, ad un designer proporrei di pensare qualsiasi cosa nel senso che tarnoivica riesce a supportarlo a 360 gradi per cui la sua immaginazione, la sua illuminazione si può tranquillamente ricreare e avere una soluzione tecnica che tarnoivica riesce a fornire molto italiana come risposta assolutamente sì ciao 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 ciao